Vai dai dai! Va bene! Io lo prendo! Te lo tengo! Io voglio dire quello! Ehi! Questa magia è mia! Lei puoi darlo dopo per andare! Guarda, basta! Finito! Grazie! Magica, non ti preoccupare! Questa cosa sperimenti! Gliel'ho chiesta il consenziante! E' vero! E tra te lo sai che sei appena diventata la sua miniera personale! Che cosa è vero? Che è successo? Ho preso un po' di polverina! Lei è consenziante! Questa è la sua anima! Consenziante? Lei è la mia e ci faccio quello che voglio! A raggiungere! Guarda! Quale? E' mia? No, queste! Della mattina! La mia non ci tocca! Perché questo ci facciamo! Non mi vuoi di sfortuna, vero? Vai! Perché non mi vuoi di sfortuna! Se mi vuoi di sfortuna, ti ritorni a mettere sfortuna! Non ti forzo sfortuna! E' attenta come le usate! E' magari tu! E' finito! Penso che si! E' di tu! Tu resisti ai beni! Non te lo faccio dire! Eh! Sennò io la posso utilizzare come il nuovo ingrediente per l'antidolo! Non te lo posso dire! Ma non te le più! E' davvero il mio figlio di ofertina! E' davvero il mio figlio di fatale! Favoloso! 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 Finché abbiamo 20 amurati! Al final se ci sono solo i 20... No, aspetta! Alla fine di questo conclave ci saranno 26 rotevoli Io ero in realtà che io non sei oggi, ma ci sento un spazio E spazio è un sacco migliore E questo è un sacco lunga, tantissima Spazio è un sacco lungo, è un sacco lungo, è un sacco lungo Riguardo cosa ragazzi? Di tanti rotevoli Ah, di oggi poveriggio? Non lo sapete che dovremmo E di Elia